Annata olearia povera e faticosa quella dello scorso anno, ma con oli di grande qualità, come ha potuto dimostrare il concorso Ozzusardo, indetto dalla Coldiretti in collaborazione con il Comune di Sassari e la Camera di Commercio. Numerosi partecipanti anche per questa edizione del concorso, che oggi prima delle premiazioni, hanno assistito ad un convegno sulle prospettive di crescita dell'olivicoltura e della produzione olearia in Sardegna. Attività che da secoli, se non da millenni, caratterizzano l'economia del sassarese, con punte di eccellenza come quando negli anni 70 il territorio divenne la prima provincia d'Italia per la meccanizzazione della raccolta. Oggi i gusti dei consumatori cercano più l'eccellenza e c'è spazio per puntare sulla qualità, sulla tracciabilità e sul biologico. E le eccellenze del sassarese sono emerse dal concorso Ozzusardo, con una giuria di assaggiatori esperti e un controllo delle qualità chimico-fisiche secondo i parametri di giudizio adottati nelle competizioni ufficiali. Nella graduatoria aziende ha vinto il primo premio Giuseppe Fois con i terreni ad Alghero, Usini e Olmedo, azienda che con il nome di Accademia Olearia ha vinto anche il primo premio della categoria fruttato medio. Per il fruttato leggero ha vinto invece l'azienda San Leonardo di Usini. Per le aziende extra provincia ha conquistato il premio Rosalba Murtas di Paoli Latino. Nella graduatoria Obisti hanno ottenuto il primo posto rispettivamente per le tre categorie di fruttato Pierpaolo Canu di Codrongianos, Gianmario Fais di Usini e Palita Ignazio di Florinas.